Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che molti di voi mi hanno richiesto. In questo video parliamo di Lacey Elizabeth Spears. Questa donna si è macchiata di un crimine terribile, imperdonabile, il peggiore. E se conoscete e apprezzate la storia di Dee Dee e Gypsy Rose Blanchard, o ancora dell'infermiera Beverly Hallett, vi consiglio di rimanere con me fino alla fine. Partiamo dunque dall'inizio. Chi è Lacey Spears? Lacey nasce il 16 ottobre del 1987, alla base dell'aeronautica militare di Castle, a Dead Weather, in California. Lacey è la più piccola dei tre figli di Tina e Terry Spears. Sua sorella si chiama Rebecca Ann e nasce nel 1984. Infine c'è suo fratello, Daniel Joseph, che viene alla luce esattamente 18 mesi dopo. Appena Lacey ha sei settimane, la base aeronautica in cui è venuta alla luce chiude. Loro padre Terry di conseguenza lascia il lavoro e tutta la famiglia si trasferisce a Decatur, in Alabama. Decatur è situata sulle rive del fiume Tennessee, nell'Alabama centro-settentrionale. La popolazione è di 55.000 abitanti e si trova nel cuore della Bibble Belt. Dovete sapere che questa zona ha una chiesa in ogni angolo della strada. La famiglia Spears si stabilisce nella casa del ranch dei genitori di Tina. I nonni di Lacey, Rebecca Ann e Daniel Joseph si chiamano Paul e Peggy Florence. Terry trova quindi ben presto un lavoro come saldatore, mentre invece Tina rimane a casa per occuparsi dei suoi tre figli. Terry e Tina sono comunque una coppia stabile, però Lacey, crescendo, si trova spesso in disaccordo con suo padre, mentre giudica sua madre come una donna fredda e poco affettuosa. C'è da dire che entrambi i genitori di Lacey hanno gravi problemi di salute. Tina, alla solità di 22 anni, ha dovuto fare i conti con il diabete di tipo 1, di cui poi ha sofferto per tutta la sua vita, mentre Terry soffre di celiachia e ha il morbo di Crohn. Nonostante tutto, nonostante anche i problemi di salute, Terry lavora duramente per mantenere la sua famiglia e per non far mancare nulla in casa. Lacey fin dall'infanzia ama giocare con le bambole. Trova il loro del conforto, tanto che inizia a collezionare tante bambole di American Girl. Col tempo inizia a lavarle, a vestirle, a parlare con loro. Le tratta come se fossero sue figlie. Arrivata a 5 anni, Lacey si unisce alla scuola materna di Decatur, che si trova in Tummy Street. Andando all'asilo, Lacey si affeziona a Mallory McWhorter. Diventano praticamente amiche inseparabili. Lacey va spesso a casa di Mallory, ma non avviene mai il contrario. In quanto la madre di Mallory ha una strana sensazione riguardo quella famiglia. Di conseguenza non vuole che sua figlia frequenti casa Spears. Però poi arriva un giorno, un giorno in cui Mallory riesce a convincere sua madre a farla andare a casa di Lacey. Peccato che la situazione non finisca affatto bene. Infatti le ragazze sono in camera di Lacey e Lacey prova a strangolare Mallory. Le mette letteralmente le mani al collo e quando la madre di Mallory va a riprenderla, vede chiaramente i lividi sul suo collo. Chiede quindi alla figlia cosa sia successo e la figlia le racconta tutto. Ed è proprio questa situazione che convince definitivamente la madre di Mallory. Sua figlia deve stare lontana dalla famiglia Spears. Il tempo intanto passa, Lacey ovviamente continua a crescere e, in terza elementare, diventa una grande amica di Jessica Kyle. Inizialmente le due non vanno molto d'accordo, però pian piano si rendono conto che hanno delle passioni in comune. Come ad esempio le bambole. Ed ecco quindi che stringono amicizia. Lacey e Jessica amano prendersi cura delle loro bambole come se fossero loro figli. Il punto è che Lacey quasi sviluppa un'ossessione. Le sue bambole le porta ovunque, nel passeggino, in giro, al centro commerciale, al parco. Quando Lacey frequenta la quinta elementare, suo nonno viene a mancare. Quindi sua nonna Peggy decide di trasferirsi a Clearwater, in Florida, per vivere con suo figlio Toby. I tre fratelli Spears chiamano Toby, in modo affettuoso, Zio Boo. E negli anni successivi vanno spesso a Clearwater. Lacey ama molto il clima della Florida, ama la spiaggia e quindi sogna di andare a vivere lì un giorno. Tutti quanti adorano immensamente lo Zio Boo. Alla fine è un ragazzo che ama divertirsi e porta spesso i tre fratelli Spears a fare dei giri sulla sua auto sportiva. Poi li porta al mare, gli insegna a fare immersioni. Spesso anche Peggy e lo Zio Boo vanno a trovare la famiglia Spears in Alabama, a Decatur. Quando Lacey ha circa 12 anni, si presenta nel cuore della notte a casa di Jessica Kyle, la sua amica. Lacey appare spaventata. Dice alla madre di Jessica, ossia Lisa Kyle, che ha subito violenza da un suo parente ed è troppo spaventata per tornare a casa. Lisa preoccupata riferisce l'avvenimento al Dipartimento delle Risorse Umane, ma non c'è traccia di eventuali indagini successive. Nelle settimane seguenti, Lacey si trasferisce a casa di Jessica e inizia a chiamare la madre di Jessica, Lisa, mamma. Arriviamo all'inizio del 2002, quando Lacey, che ormai ha 14 anni, inizia a frequentare la Parkview Baptist Church. Si unisce alla squadra di softball e durante gli allenamenti settimanali fa amicizia con Paula Standlin. La donna segue gli allenamenti della squadra e Lacey si lega così tanto a lei che inizia a chiamarla mamma. Ma c'è qualcosa in più, in questo periodo Lacey è solito inventarsi delle storie davvero assurde e più va avanti il tempo, più le storie che racconta risultano davvero inverosimili. In un'occasione precisa entra in chiesa con addosso un tutore alla caviglia e racconta a tutti che è caduta e si è fatta male durante delle prove con le cheerleader. Poco dopo però la sua storia cambia, sostiene di soffrire di disturbi alimentari, ecco perché durante quelle prove è caduta a causa della mancanza di cibo. Lacey afferma quindi di essere caduta perché non si nutriva da ben tre giorni, però c'è un problema perché delle sue compagne l'hanno vista chiaramente il giorno prima consumare un hot dog. Ovviamente a questo punto Lacey non può negare, è messa davanti all'evidenza, l'hanno vista, quindi dice che in realtà è vero, ha mangiato quello hot dog, ma ha mangiato solo quello hot dog. Arriva l'estate e con l'estate Lacey inizia a raccontare un'altra storia in giro, ossia sostiene di essere incinta. Paula Stanlin, la sua insegnante di softball, le chiede cosa abbia intenzione di fare considerando che il liceo sta per cominciare. Lacey dice che non lo sa, però pochi giorni dopo sostiene di aver abortito in un centro medico a Birmingham, in Alabama. Peccato che quel centro medico non pratichi aborti, non l'ha mai fatto. Quando più persone fanno presenti a Lacey questa cosa, la ragazza cambia versione, non ha abortito in Alabama, è andata in Florida. Nel 2002 Lacey inizia il suo anno di matricola alla Decatur High School. Mallory McWhorter ha preso di vista Lacey dalla prima elementare, in quanto sono state mandate in scuole primarie diverse, e non sono state mandate in scuole primarie diverse casualmente. Era la mamma di Mallory che non voleva assolutamente che sua figlia frequentassero elementari con Lacey. Però, ora, si sono rincontrate. È così che riprendono a parlare, passano del tempo assieme e ritornano amiche. Però a questo punto Mallory nota un cambiamento evidente in Lacey. Ora desidera l'attenzione e l'approvazione dei suoi insegnanti. Per lei è essenziale. C'è da dire che il costante bisogno di Lacey di essere ammirata dai suoi insegnanti non la rende troppo simpatica ai suoi compagni di classe. In questo periodo fa amicizia con Cara Coach, che conosce durante una lezione di matematica. Le due stringono una forte amicizia, ma di nuovo Lacey continua a comportarsi in modo strano. Scherza sul fatto che assume pillole dimagranti come Caramelle. Inoltre sostiene anche di assumere, un po' come gli pare, l'Adderal. Che è un farmaco soggetto a prescrizione, usato per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione o di iperattività. Inoltre viene anche utilizzato per la narcolessia. Con dosi elevate di Adderal, senza quindi seguire le dosi terapeutiche, è possibile, ahimè, compromettere il controllo cognitivo, generando paranoie che possono anche sfociare in psicosi nei casi più gravi. Lacey racconta a Cara Coach, la sua nuova amica, che è molto infelice a casa, in quanto non riesce a comunicare con sua madre e sua sorella. Suo padre, poverino, ha subito da poco un trapianto al fegato. Per di più, c'è un membro della famiglia che fa violenza su di lei. Durante tutto il liceo, Lacey ripete di subire violenza da un parente, ma non solo. Lacey ripete spesso anche di voler diventare madre. Verso la fine del suo percorso di studi, inizia a fare volontariato presso l'asilo nido della chiesa battista di Parkview. Lacey è brava, si prende cura dei bambini, ma a un certo punto inizia a notare un bambino particolare e inizia a star dietro molto a questo bambino, che si chiama Charlie. Col tempo la madre di Charlie si lamenta con l'asilo, dicendo che Lacey la rende nervosa perché suo figlio torna a casa e le racconta cose strane. Quindi non vuole che Charlie entri di nuovo troppo in contatto con quella ragazza. Arriviamo al 26 maggio del 2006. Lacey ormai ha 18 anni e si diploma alla Decatur High School. Subito dopo il diploma si trasferisce con sua sorella in un appartamento con due camere da letto. Lacey e Rebecca però, pur comprando casa, non si allontanano dalla casa dei genitori, che dista poco meno di 100 metri. Così, Lacey in quel periodo inizia a lavorare all'asilo nido Kids Club a Decatur, proprio per poter pagare la sua parte d'affitto ogni mese. Anche Rebecca lavora in un asilo nido locale, però dall'altra parte della città. Lacey all'asilo di nido stupisce tutti, ha un entusiasmo sconfinato. Riesce addirittura facilmente a prendersi cura di 5 bambini per volta. Nell'ottobre dello stesso anno, Lacey si iscrive ad un corso di infermieristica al Calum College, dicendo a tutti i suoi amici e conoscenti che il suo grande sogno è proprio quello di diventare un'infermiera. In classe incontra una giovane madre single, il nome è Christy Branham, una ragazza che Lacey ha già conosciuto all'elementare. Presto Lacey si avvicina molto a Christy e a suo figlio Cameron, di 10 mesi. Christy ha avuto Cameron all'età di 17 anni e Lacey si offre di aiutarla col bambino. Ovviamente Christy è felice di questo nuovo appoggio, però col tempo Lacey diventa ossessionata da Cameron. Trascorre tutto il tempo che può con lui e non chiede neanche un compenso. Si prende cura di Cameron gratuitamente perché più arriva anche a comprargli dei pannolini, ma non si ferma qui. Lacey arriva a comprare per Cameron un seggiolino per auto e una culla, tutto di tasca sua. Ogni volta che Lacey porta Cameron in giro, finge di essere sua madre. Infatti quando è Christy a prendersi cura di suo figlio, viene fermata da qualche conoscente che le chiedono se per caso sta tenendo il bambino di Lacey. Ovviamente Christy rimane perplessa e dice a tutti che quello non è il figlio di Lacey, è suo figlio. Lacey si prende cura di Cameron per sei mesi e proprio in questo periodo di tempo il bambino inizia a soffrire di infezioni alle orecchie che ovviamente richiedono cure mediche. Arriva primavera del 2007, è un sabato mattina e Lacey prende Cameron per prendersi cura di lui durante il fine settimana. Peccato che poi Lacey scompare. Quando Christy non vede Lacey e suo figlio tornare per domenica sera, inizia ovviamente a preoccuparsi e chiama chiunque per chiedere spiegazioni. Peccato che nessuno li abbia visti. L'unedì Christy riesce a mettersi in contatto con Lacey e le ordina di riportarle immediatamente suo figlio. Quando Lacey si presenta da Christy, quest'ultima le dice che non avrebbe mai più curato suo figlio. Lacey a questo punto scoppia in un pianto disperato, chiede scusa a Christy e piangendo la supplica dicendo ti prego non portare via Cameron da me. Lacey col tempo ha sempre questo modo superandi. Conosce qualche madre bisognosa, si offre di fare da babysitter, ovviamente tutto in modo gratuito, e inizia a comprare oggetti utili al bambino, tutti di tasca sua, per poi fingere che sia suo figlio. Questa situazione è certa perché Lacey ha un profilo MySpace in cui carica diverse foto di questi bambini e finge che tutti questi bambini siano suoi. Ma c'è anche un'altra cosa. Tutti i bambini di cui si prende cura iniziano ad avere delle infezioni alle orecchie. Poco dopo Lacey attira le attenzioni di un uomo di nome Chris Hill, che vive al piano terra del suo stesso condominio. I due iniziano a stare insieme, vanno a letto insieme, ma Lacey non è particolarmente affettuosa. Va al piano di sotto solo per far cose con Chris, ma non rimane lì a dormire, mai. Trova sempre una scusa per ritornare a casa sua. Ma la cosa grave in questo caso è un'altra. Lacey non ha mai parlato di contraccettivi e Chris non le ha mai fatto delle domande a riguardo. Ben presto Lacey non si fa più sentire e Chris la lascia perdere. Fino a quando arriva marzo. E Lacey scopre di essere in dolce attesa. All'inizio di ottobre Lacey organizza un baby shower. C'è sua madre e sua sorella sono presenti, mentre invece suo padre è occupato a lavorare. Ma regala comunque a sua figlia un cavallo ad ondolo di legno verde che è costruito con le sue stesse mani. Più di 21 persone tra amici e parenti partecipano al baby shower organizzato da Lacey. E per tutti è chiaro come il sole. Lacey non vede l'ora di diventare madre. È entusiasta di avere un bambino e ha anche già scelto un nome per lui. Si chiamerà Garnet. Garnet viene al mondo mercoledì 3 dicembre a Lansville Hospital. È un bambino sano e già dopo pochi minuti dalla sua nascita Lacey lo tempesta di fotografie per caricarle su MySpace. Anche durante la prima settimana di vita di Garnet, Lacey pubblica una dozzina di foto su MySpace di lei in posa con suo figlio. Venerdì 5 dicembre i medici di Lansville Hospital dimettono Garnet dichiarando che è un bambino in salute. È sano e non presenta alcun problema. Arriva a gennaio 2009 e lei si inizia a portare suo figlio in ospedale praticamente ogni giorno. Sostiene che suo figlio non riesce a mangiare correttamente. Vomita tutto ciò che mangia. Inoltre ha perso anche un altro sintomo. Sanguina spesso dalle orecchie. La pediatra Melissa Young King cura Garnet numerose volte ma di fatto non l'ha mai visto vomitare e non riesce a capire cosa siano dovute le sue infezioni croniche alle orecchie. Durante la terza settimana di gennaio Lacey torna all'ospedale dicendo che Garnet continua a vomitare e non riesce proprio a mantenere del cibo nello stomaco. Di conseguenza non cresce, non mette su peso. A Garnet che ha appena 6 settimane viene diagnosticato un reflusso e di conseguenza viene operato immediatamente. Il 3 febbraio Garnet viene visitato da un gastroenterologo pediatrico di Huntsville il quale diagnostica al bambino di 9 settimane una malattia da reflusso e un ritardo della crescita. A questo punto su richiesta del gastroenterologo il chirurgo pediatrico James Gilbert esegue una procedura radicale. Garnet è sotto anestesia totale e viene operato allo stomaco per fare in modo che non riesca più a vomitare. Con questa operazione Garnet letteralmente non avrebbe mai più potuto vomitare. Subito dopo l'operazione Lacey porta suo figlio in un'altra clinica lamentandosi del fatto che si rifiuta di nutrirsi con latte artificiale. La dottoressa che lo visita prende il biberon che Lacey ha portato con sé e prova a nutrirlo con quel biberon e si rende conto che è vero. Garnet non mangia, rifiuta il biberon. Quindi decidono di nutrirlo tramite un sondino nasale. E anche in questo caso Lacey scatta milioni di foto al bambino con il sondino nasale per poi ovviamente pubblicarle su MySpace. L'11 febbraio Lacey si presenta di nuovo in un'altra clinica lamentando lo stesso problema. Suo figlio si rifiuta di assumere latte artificiale. Eppure quel giorno un'infermiera riesce a nutrire Garnet con del latte artificiale. Ecco perché finalmente i medici decidono di fargli delle analisi del sangue per vedere se i valori sono tutti nella norma oppure se ci sono dei problemi. Le analisi del sangue dimostrano che il bambino ha dei livelli di sodio nel sangue davvero preoccupanti. Sono davvero troppo alti. Subito dopo aver ottenuto l'analisi del sangue Garnet inizia ad avere delle convulsioni. Smette di respirare quindi viene trasportato in aereo all'ospedale Children of Alabama che si trova a Birmingham. Il dottore che lo visita sostiene che Garnet è fortemente disidratato. I medici inoltre sono anche preoccupati che il bambino possa aver subito dei danni cerebrali. I dottori cercano di abbassare il tasso di sodio nel sangue di Garnet. Poi il 13 febbraio lo trasferiscono al piano generale dell'ospedale dove trascorre 11 giorni. Il 15 febbraio la dottoressa Sara Tucker una specialista gastrointestinale deve fare delle valutazioni sull'alimentazione di Garnet. È necessario capire perché quel bambino ha così tanti problemi a ingrassare. Sebbene lei si sostenga di non riuscire a nutrire il bambino col biberon la dottoressa non ha questo problema. Con lei il bambino mangia. Garnet rimane sotto osservazione per due giorni e non vengono verificati i problemi di alimentazione. I medici sono sconcertati ed eseguono di conseguenza una serie di test per capire come mai i livelli di sodio di Garnet sono aumentati così tanto precipitosamente. Purtroppo però non riescono a trovare risposta a questa domanda. Garnet viene anche sottoposto ad un attacchio e una risonanza magnetica e risultano normali. Gli viene anche fatto un ennesimo esame del tratto gastrointestinale superiore per determinare se magari ci sia qualche ragione genetica o metabolica ma non viene trovata nessuna anomalia. Il personale dell'ospedale dell'Alabama è alquanto preoccupato. Temono che i problemi di Garnet abbiano qualcosa a che fare con sua madre. Ecco perché decidono di tenerlo lontano da Lessie per quattro giorni. In quei quattro giorni le infermieri dell'ospedale danno da mangiare a Garnet senza alcun problema. Il bambino mangia normalmente. Questa situazione ovviamente va fortemente in contrasto con ciò che sostiene Lessie ma nonostante ciò il 24 febbraio Garnet viene dimesso e di nuovo affidato alle cure di sua madre. Purtroppo la vita di Garnet viene scandita in modo irregolare da continue visite in vari ospedali. Lessie sostiene sempre che Garnet presenta sempre gli stessi problemi. Vomita e ha delle perenni infezioni alle orecchie. Arriva il 20 giugno. Lessie porta di nuovo in ospedale Garnet che è in condizioni davvero tanto critiche. Ecco perché ancora una volta i medici decidono di trasportarlo al Children's Hospital a Birmingham. Questa volta Garnet non perde solo sangue dalle orecchie ma anche dagli occhi, dal naso e dalla bocca. All'arrivo Garnet viene immediatamente ricoverato e trascorre i giorni successivi sotto osservazione. Quattro giorni dopo subisce un'altra operazione e Lessie anche in questo caso non manca di fargli centinaia di foto per poi caricarle su MySpace. Mette in evidenza il fatto che suo figlio non stia bene pare quasi che lo voglia ostentare. Ormai c'è da dire che le foto che Lessie posta su MySpace mostrano suo figlio che giace malato in un letto d'ospedale in continuazione. Il 23 settembre Lessie crea un account su Twitter per tenere aggiornato lo stato di salute di suo figlio. Arriva venerdì 16 ottobre, Lessie compie 22 anni. Poco dopo arriva Halloween e lì Lessie veste suo figlio da tartaruga e lo porta ad una festa per bambini. Ma il 9 novembre ecco che Lessie scrive di nuovo sui social di pregare per suo figlio perché deve nuovamente fare una visita all'ospedale. La donna per l'esattezza scrive su Facebook Per favore pregate Spero che Garnet non debba essere ricoverato di nuovo in ospedale Il mio bambino ha passato metà della sua vita negli ospedali Due giorni dopo Garnet è di nuovo in ospedale e Lessie twitta una notizia che a me onestamente ha lasciato basita In quanto dice Il mio dolce angelo è in ospedale per la ventitresima volta Per favore pregate che torni a casa presto Allora io onestamente quando ho letto questa cosa sono rimasta davvero di sasso Certo Lessie porta spesso suo figlio in ospedale ma non è chiaro quante volte l'abbia portato dalla sua nascita Dopo questa frase invece è chiaro come il sole Davvero quel bambino ha vissuto più in ospedale che a casa Passano due giorni E Lessie twitta che Garnet è a casa e deve andargli a comprare il regalo per il suo compleanno Arriviamo a giovedì 3 dicembre quando Garnet compie un anno Passa Natale, passa Capodanno Arriva il 3 gennaio E Lessie scrive sui social che Garnet sta di nuovo male Per esattezza scrive Spera una notte senza crisi epilettiche, febbre alte e viaggi in più ospedali Dopo un anno di tentativi per curare le infezioni ricorrenti alle orecchie di Garner Il dottore che lo segue non sa più cosa diamine inventarsi Non sa letteralmente più che diavolo di analisi far fare a quel bambino Quindi indirizza Lessie da un altro professionista Il dottor Christopher Wooten presso il Vanderbilt University Medical Center a Nashville, nel Tennessee Il 2 febbraio Lessie guida per 115 miglia con Garnet col fine di vedere il dottor Wooten Lessie lo informa immediatamente che suo figlio ha avuto in precedenza un'infezione cronica alle orecchie Il dottore però lo visita nota che in salute quindi si limita a prescrivergli un antibiotico Nell'uglio del 2010 Lessie porta Garnet a Clearwater in Florida Lo zio Bo ormai in un ospizio con un cancro terminale e quindi Lessie dice a sua nonna Peggy che ha bisogno di aiuto non può fare tutto da sola e quindi le dice che lei le avrebbe dato una mano molto molto volentieri La vecina di casa della nonna di Lessie Kimberly Philipson incrocia Lessie e Garnet proprio il giorno del loro arrivo Inizialmente Lessie si mostra timida parla poco col tempo però inizia a prendere confidenza con Kimberly quindi le racconta dei problemi di Garnet ma non solo Lessie dice a Kimberly che Garnet è frutto di una violenza intima che un parente ha continuato a farle per anni e quell'uomo il padre di Garnet continua a importunare Lessie le manda le foto del suo arnese e la obbliga in chiamata a dire cose intime insomma fanno le cose solo tramite chiamata questo ovviamente secondo la versione di Lessie Kimberly è molto dispiaciuta per Lessie però al contempo nota che c'è qualcosa che non va Garnet spesso va da Kimberly per giocare con le sue due figliastre e pare non abbia alcun problema a mangiare eppure è alimentato da un sondino Kimberly dice che Garnet in realtà mangia tranquillamente senza alcun problema chiede di mangiare ghiaccioli gelati chiede addirittura di mangiare dei cracker o delle uova strapazzate perché non ha idea di che gusto abbiano quel bambino non ha idea di che cosa siano gli alimenti non frullati questo ovviamente lascia alquanto perplessa Kimberly perché nota con i suoi occhi che non ha senso non farlo mangiare cibi solidi né ha senso alimentarlo con un sondino Lessie ripete che suo figlio non riesce a digerire il cibo ma quel bambino mangia di tutto senza alcun problema oppure le patatine fritte nonostante ciò Kimberly non si mette in mezzo e non chiede spiegazioni a Lessie in quanto Garnet non è suo figlio e comunque immagina che Lessie non è che l'avrebbe presa benissimo a fine agosto Tina Spears la madre di Lessie arriva a Clarewater per vedere Bo e dargli l'ultimo saluto quella è la prima volta che Kimberly Philipson incontra Tina ed è in effetti stranita nel vedere la relazione che c'è tra la madre e la figlia Tina infatti si dimostra fredda e tratta male Lessie le ordina di fare qualsiasi cosa Kimberly quindi passa del tempo a contatto con la famiglia Spears fino a quando lo zio Bo non torna a casa per lui ormai non c'è più nulla da fare e quindi preferisce venire a mancare in casa sua piuttosto che in un ospizio in un ospedale Kimberly in qualità di assistente infermiera registrata si avvicina a Bo col fine di curarlo per non farlo stare male agli ultimi suoi giorni di vita ma nota immediatamente che in quella casa c'è un'atmosfera pesantissima la tensione è papabile e infatti pochi giorni dopo Kimberly arriva a litigare con Tina Spears e Peggy Peggy la nonna di Lessie le ordina di andarsene da casa sua Kimberly però prima di andarsene la prende da parte e le dice che Lessie le ha raccontato tutto e le dice che sa bene che Garnet è figlio di un parente che ha fatto violenza su Lessie e per di più questo parente continua a darle fastidio nonostante sia molto lontano da lei Peggy guarda Kimberly e le risponde oh Kimberly devi sapere che Lessie ha dei problemi a dire la verità questa risposta dovrebbe dirla molto lunga però Kimberly non conosce Lessie da tanto tempo non ha mai avuto modo di vederla in passato quindi anche in questo caso si tiene la bocca chiusa mercoledì 3 novembre 2010 lo zio Bo viene a mancare per cancro all'età di 44 anni l'8 novembre Lessie e Garnet tornano in Alabama per fare le valigie e trasferirsi in pianta stabile in Florida a Clearwater in Florida il tempo è sempre ottimo e sicuramente avrebbe fatto bene a Garnet il tempo passa Lessie continua a fare avanti e indietro dagli ospedali fino a quando non si approccia alla medicina olistica Lessie cambia drasticamente la dieta di Garnet praticamente lo fa diventare vegano forse anche peggio lo scrive tranquillamente in un suo stato di Facebook mio figlio non mangia glutine latticini carne zucchero di qualsiasi forma soia alimenti trasformati aceto tutto il suo cibo è biologico ma combatte ancora con le infezioni arriviamo al 3 dicembre del 2011 quando Garnet compie tre anni pare che si sia ripreso e sia in buona salute ma di nuovo all'inizio di gennaio 2012 Garnet rincomincia ad avere infezioni alle orecchie durante l'estate del 2012 Peggy e Lessie hanno effettivamente una discussione su come sarebbe meglio nutrire Garnet ovviamente Lessie alla meglio il punto è che tutte le persone intorno a Lessie iniziano a vedere non di buon occhio il suo approccio con la medicina infatti Lessie diventa contraria ad ogni forma di antibiotico e medicina tradizionale e inizia quindi a curare suo figlio con farmaci naturali il 29 giugno Lessie difende di nuovo su Facebook il suo stile di vita olistico dice chiaramente che Garnet non si cura con nessuna medicina ma con rimedi naturali no mio figlio non mangia cibo cotto dal microonde gioca con i suoi giocattoli ma no non guarda la tv e non beve le bibite non mangia gelato non consuma nessun tipo di zucchero e no non è vaccinato perché non segue la medicina occidentale no non gli toglierò il ciuccio fino a quando non sarà pronto lui a lasciarlo andare raramente viene sgridato non gli do scolacciate e non gli urlo contro quindi no non viene maltrattato potrei spiegare le ragioni dietro tutto ciò che vi ho detto ma onestamente è davvero importante no ciò che conta è che è mio figlio l'ho partorito io lo sto crescendo io e vi assicuro che alla fine della giornata è nutrito è felice lo metto sempre al primo posto e lo amo più della mia vita il tempo continua a passare fino a quando Lacey non viene a sapere della scuola di Waldorf che ha sede nel Maryland questa scuola è stata fondata nel 1919 da Rudolf Steiner l'educazione Waldorf integra i valori olistici con lo sviluppo accademico degli alunni Lacey studia online il sistema educativo della Waldorf e conclude che quello sarebbe stato lo stile di vita perfetto per lei e Garnet Lacey trova anche interessante la Green Meadow Waldorf School che si trova a Chestnut Ridge più precisamente questa scuola si trova a New York in un terreno della Fellowship Community se Lacey avesse lavorato per la comunità ossia per la Fellowship avrebbe ricevuto in cambio vitto e alloggio gratuito oltre a un'istruzione per Garnet nell'istituto privato Green Meadow domenica 4 novembre 2012 Lacey e suo figlio Garnet arrivano a Chestnut Ridge a New York proprio per vivere presso la Fellowship Community questa comunità si trova a 30 miglia a nord di New York è arroccata su una collina nella contea di Rockland la Fellowship si estende per circa 80 acri è presente una fattoria di 33 acri con un giardino dove vengono coltivate erbe per i residenti utilizzano una forma di agricoltura biologica olistica nota come agricoltura biodinamica elaborata proprio da Rudolf Steiner il creatore della comunità la Fellowship accoglie calorosamente Lacey e Garnet fanno del loro meglio per farli sentire a casa Lacey quindi ben presto anche in questo caso si lascia andare parlando dei problemi di salute di suo figlio tutti quindi aprono ancora di più le braccia per accogliere i nuovi arrivati però anche loro notano che c'è qualcosa che non va Lacey descrive suo figlio come un bambino parecchio malato ma in realtà sembra sia in perfetta forma energico gioca corre in giro ed è anche un bambino molto estroverso i due in breve tempo si ambientano ed ecco che ben presto arriva il quarto compleanno di Garnet all'inizio del gennaio 2013 Lacey si sente completamente parte della comunità di Fellowship e a partire dall'ottuno seguente Garnet avrebbe iniziato a frequentare l'asilo al Green Meadow nella seconda settimana di febbraio a Chestnut Ridge nevica e nevica anche tanto e Lacey scatta diverse foto di Garnet sullo slittino in mezzo alla neve per poi postarle come al solito sui suoi social il punto è che anche in questo caso le persone che la seguono sui social specialmente quelle che la conoscono anche dal vivo notano ci sia qualcosa che non vada Lacey ripete che Garnet è malato che ha continue infezioni alle orecchie che non sta bene poi però due giorni dopo pubblica foto del bambino che gioca in mezzo alla neve Garnet continua comunque a vivere con sua madre nella comunità di Fellowship non smette però di avere i suoi soliti problemi di salute arriva il 17 gennaio del 2014 Garnet circa un mese dopo il suo quinto compleanno ha una crisi convulsiva e di conseguenza viene portato d'urgenza all'ospedale i medici lo sottopongono a diversi esami che sperano faranno luce sulla natura delle crisi di Garnet intanto i post su Facebook di Lacey diventano sempre più crudi e terrificanti scrive cose del tipo Garnet non riesce a tenere sulla testa senza urlare dal dolore questa cosa non è vera e di questo non vero c'è moltissimo il 19 gennaio Garnet viene dimesso ma Lacey si oppone è convinta che i medici sia sfuggito qualcosa passano pochi minuti ed ecco che mentre Lacey è in camera da sola con Garnet quest'ultimo ha un'altra crisi questa volta però smette di respirare viene nuovamente aereo trasportato in una unità di terapia intensiva specializzata nell'ospedale per bambini di Valhalla le condizioni di Garnet sono critiche cercano di stabilizzarlo ma non hanno ancora una diagnosi per la sua malattia ed è così che decidono di contattare la polizia finalmente il dottore che ha seguito Garnet spiega alla polizia che il bambino ha avuto un grave trauma al cervello praticamente è tenuto in vita da un respiratore il suo stato di salute preoccupante deriva da un picco del livello del sodio nel sangue però non vi è una spiegazione ragionevole per cui quella quantità di sodio sia presente nel sangue del bambino in poche parole l'hanno avvelenato Garnet è attaccato al respiratore quando tre ispettori si ritrovano in ospedale e iniziano a indagare sulle condizioni del bambino cosa si cela dietro il misterioso collasso di Garnet? gli inquirenti partono seguendo la pista della negligenza medica magari qualcuno ha sbagliato a somministrare qualche farmaco a Garnet o l'ha attaccato alla flebo sbagliata oppure ancora pensano che sua madre abbia utilizzato farmaci olistici senza sapere però come somministrarli correttamente causando quindi il malessere del figlio in modo accidentale oppure c'è la peggiore delle ipotesi qualcuno l'ha avvelenato volontariamente le autorità iniziano perquisendo la casa di Lacey e appena entrano dentro si rendono conto che qualcosa non torna perché? perché è tutto perfettamente in ordine non c'è un cuscino fuori posto è strano che Lacey non abbia lasciato la casa in disordine considerando la situazione d'emergenza in quella casa è tutto in ordine troppo in ordine subito dopo i detective trovano i farmaci che Lacey si somministra a suo figlio ogni giorno e sono più di 150 farmaci olistici magari un componente di questi farmaci ha causato questa crisi a Garnett non è difficile pensarlo visto quanti sono gli inquirenti quindi decidono di prelevare tutti i farmaci trovati a casa di Lacey per farli analizzare al laboratorio la mattina dopo Garnett viene dichiarato cerebralmente morto ormai ogni speranza per la sua guarigione è svanita gli investigatori sono ancora lontani dal capire cosa abbia causato l'aumento di sodio di Garnett non ci sono prove di una negligenza medica all'ospedale e i risultati del laboratorio non riporta tracce di sodio nei farmaci che hanno trovato nell'appartamento di Lacey gli inquirenti tuttavia ritengono che qualcuno sta nascondendo qualcosa quindi decidono di interrogare tutta la famiglia Spears quando gli inquirenti osservano il rapporto che c'è tra Lacey e la sua famiglia si rendono conto che è un rapporto davvero davvero strano il presentimento che qualcosa non vada quindi cresce sempre di più a questo punto le autorità provano a contattare persone vicine alla famiglia Spears per capire se qualcuno può far luce sul loro comportamento un detective contatta Kimberly Philipson la vicina di casa di Peggy la nonna di Lacey a Clearwater in Florida Kimberly racconta tutto quello che sa la polizia ha avuto modo di parlare con Peggy la nonna di Lacey ed è così che ha capito che tutto ciò che le ha raccontato Lacey è una balla Kimberly sottolinea anche un fatto Lacey ha sostenuto per lungo tempo di aver subito violenza da un parente lei quindi ha affrontato la nonna di Lacey Peggy per dirglielo Peggy però le ha risposto con una frase abbastanza esplicita perché le ha detto Kimberly Lacey purtroppo non dice sempre la verità è così che Kimberly dice tutte le autorità e dice anche che con quella frase Peggy le ha fatto capire che tutto ciò che Lacey le ha confidato non è la verità niente è la verità a questo punto la polizia pensa seriamente che Lacey possa essere coinvolta e controllando su Facebook scoprono che Lacey ha ben tre profili Facebook uno è il suo ed è reale gli altri due però sono due profili fake non ha suo nome su internet Lacey sostiene di essere una balia che dona il latte a delle donne che non possono allattare i loro figli questa è una bugia afferma di aver avuto una brutta lesione al cervello al liceo quando faceva la cheerleader a causa di un disturbo alimentare anche questa è una bugia tutto ciò che ha raccontato sui social è una bugia e se Lacey riesce a mentire così facilmente può anche nascondere qualcosa relativo a Garnet e alla sua salute gli inquirenti a questo punto hanno capito che hanno a che fare con una bugiarda patologica questo però non spiega perché abbia fatto del mare a Garnet perché ha quel livello di sodio così alto gli investigatori provano varie piste investigano a lungo ma non arrivano mai a conclusioni plausibili fino a quando non arriva una chiamata dalla comunità di fellowship qualcuno chiede ai detective di andare lì perché ha delle informazioni importanti da fornire è a questo punto che il quadro inizia mano a mano a definirsi abbastanza velocemente una donna che fa parte della comunità di fellowship spiega che Lacey l'ha chiamata dall'ospedale per chiederle di buttare via la sacca portapranzo di Garnet vi dico questo perché se ricordate Lacey nutre suo figlio con cibo totalmente frullato e tramite un sondino la donna comunque dà una mano a Lacey quindi va nel suo appartamento prende la sacca portapranzo di Garnet e la butta via non si chiede neanche il motivo in quanto a fellowship ci si aiuta a vicenda sempre ma ora quella donna consegna la prima prova utile alla polizia la sacca portapranzo di Garnet e finalmente la polizia ha un indiziato i detective portano immediatamente al laboratorio il portapranzo di Garnet per farlo analizzare e appena un'ora dopo gli inquirenti hanno la risposta il tecnico del laboratorio dice agli inquirenti testuali parole qualcuno ha aggiunto del sale nella flebo il livello di sodio è alle stelle a questo punto la polizia capisce che la causa di tutto è proprio Lacey quella donna ha fatto del male a suo figlio Lacey quella stessa mattina dà il consenso per staccare il respiratore da Garnet sui social posta il grande viaggio di Garnet è terminato oggi alle 10 e 20 ovviamente Lacey non sa che la polizia l'ha scoperta quindi mentre recita la parte della madre addolorata per la sua community online gli ispettori provano ad approfondire per cercare altre provi schiaccianti a questo punto gli inquirenti provano a interrogare tutte le persone vicine a Garnet fino a quando non trovano un'infermiera di fellowship che gli chiede se per caso hanno controllato il video dell'elettroencefalogramma gli inquirenti ovviamente non hanno idea che un macchinario per l'elettroencefalografia ha registrato ciò che è accaduto al bimbo nei suoi ultimi istanti di vita gli ispettori quindi recuperano quel video e poi lo guardano si vede chiaramente Lacey che prende in braccio Garnet fuori dall'inquadratura poi torna nella stanza e dalla sua borsa prende un tubicino per l'alimentazione poi sparisce nuovamente dal video evidentemente si reca nuovamente in bagno infine Lacey torna dal bagno con Garnet in braccio lo mette a letto e si siede e sembra che sia in attesa fissa il bambino ed è chiaro che stia attendendo che accada qualcosa infatti poco dopo che Garnet inizia a scuotersi Garnet prova a vomitare ma non ci riesce a causa dell'operazione che ha subito quando era molto molto piccolo fino a quando nel video si vede chiaramente che quel povero bambino smette di muoversi il 17 giugno del 2014 Lacey Spears viene arrestata con l'accusa di omicidio i risultati del laboratorio mostrano che la busta che Lacey ha chiesto la sua vicina di casa e amica di buttare via contiene più di 20 grammi di sodio 7 volte la quantità giornaliera consigliata per un bambino Lacey Spears soffre di sindrome di Munchausen per procura ne abbiamo già parlato in questo canale in più di un'occasione infatti a inizio video vi ho nominato la storia di D.D. Blanchard e di Beverly Hallett questo è un disturbo psichiatrico in cui l'individuo arreca un danno di salute a qualcuno di cui si prende cura col fine di ricevere attenzione e affetto e infatti gli inquirenti scoprono che nessun intervento che ha subito Garnet era necessario nessuno neanche mezzo gli inquirenti in più scoprono che Garnet aveva già avuto un picco di sodio però in Alabama si può dire che il web ha creato una nuova dimensione per Lacey è diventata una vera cassa di risonanza perché non hai a che fare con una cerchia di amici e di parenti ristretta ma con tantissime persone diverse Lacey sui social riceve affetto così tanto affetto e sente che ne ha bisogno a livello psicologico ecco perché continua a far del male a Garnet in questo modo può scriverlo sui social e ricevere affetto può sentirsi dire che è la madre più coraggiosa e forte del mondo arriva il 2 marzo del 2015 quando Lacey viene giudicata colpevole e condannata a 20 anni di carcere detto questo ragazzi questa era la storia di Lacey Spears fatemi sapere se la conoscevate ma credo di sì perché è abbastanza famosa ma più che altro fatemi sapere se c'erano dei particolari che non conoscevate oppure se ci sono dei particolari che conoscete e vorreste aggiungere scrivete pure le vostre opinioni con un commento qua sotto detto questo ragazzi ho finito di sprolocchiare in questo video vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.